Salva guardia, le quantità importate in Unione Europea di alcuni dei 23 prodotti contingentati sono vicine al raggiungimento della quota acquistabile dai paesi extra-way senza il pagamento del dazio al 25%, occhi puntati su vergelle e tubi vicini al 70% del consumo del contingente barre di rinforzo, profilati leggeri e barre di acciaio inossidabili, vergelle inox e tubi gas. 21 prodotti daziati e 3 in corso di investigazione sono i contorni delle barriere doganali sulle importazioni di prodotti in acciaio oggi in vigore in Unione Europea secondo l'analisi dell'ufficio studi Siderweb che ha scandagliato i dati resi noti dalla Commissione. Produzione mondiale di acciaio tra gennaio e ottobre prodotti oltre 156 milioni di tonnellate, un aumento del 5,8% su base annua. Italia quarta per crescita nella classifica dei grandi produttori mondiali. Nei primi dieci mesi dell'anno sfornati secondo Federa Ciai 20,61 milioni di tonnellate in crescita del 2,7%. Buongiorno, ben ritrovati con il telegiornale di Siderweb. Oggi in primo piano ci sono le misure di salvaguardia sulle importazioni di acciaio introdotte dall'Unione Europea lo scorso luglio perché quando ormai mancano meno di circa due mesi alla decisione finale sulla loro imposizione o meno in modo definitivo ci sono alcuni prodotti che si sono avvicinati molto al consumo totale del contingente di importazione. Quali sono e qual è la situazione generale nel primo servizio di oggi? Bisognerà attendere fino al 3 febbraio per capire se l'Unione Europea renderà o meno definitive le misure di salvaguardia sulle importazioni di acciaio introdotte a luglio in risposta ai dazi statunitensi sull'acciaio della section 232. Nel frattempo, quando mancano circa due mesi a questa scadenza, stanno già per raggiungere le quantità importabili senza pagamento di un dazio del 25% alcuni dei 23 prodotti sottoposti a limiti quantitativi di import corrispondenti alla media degli ultimi tre anni. Vergelle e profili cavi, ovvero tubi, hanno superato dell'80% il rispettivo contingente tariffario, 88,75% le prime, con 993.000 tonnellate importate e 9.500 in attesa di sdoganamento e 81,26% i secondi, 314.000 tonnellate importate e 4.300 in sdoganamento. Si potrebbe profilare una frenata dell'import in Unione Europea di questi prodotti a scongiurare il pagamento del dazio del 25%. Altri quattro prodotti sono da monitorare perché vicini al 70% del consumo del contingente. Si tratta di barre di rinforzo, profiliati leggeri e barre di acciaio inossidabili, vergelle inox e tubi gas. Il prodotto meno importato sono i grandi tubi saldati con solamente il 23% della quota consumato in oltre quattro mesi. Ma quali sono i contorni generali delle barriere doganali attive sulle importazioni di acciaio in Unione Europea? Lo sentiamo nel prossimo servizio che parla di una recente analisi dell'Ufficio Studi Siderweb. Sono 21 i prodotti daziati e 3 quelli in corso di investigazione. Sono questi i contorni delle barriere doganali sulle importazioni di prodotti in acciaio, oggi in vigore in Unione Europea, secondo l'analisi dell'Ufficio Studi Siderweb, che ha scandagliato i dati resi noti dalla Commissione Europea. Come già accade da tempo, il paese più colpito dalle misure di restrizione del commercio è la Cina, presente in 17 dei 21 provvedimenti. Rispetto a sei mesi fa però si registrano delle novità. È stata aperta un'indagine contro le importazioni di palancole dalla Cina. L'istruttoria è iniziata lo scorso 24 maggio, un esito è atteso entro il 24 febbraio con l'introduzione o meno di dazi. Per i tubi senza saldatura provenienti da Russia e Ucraina è stata riaperta l'investigazione che deciderà se e come rivedere le misure antidumping. Anche per l'importazione di altre tipologie di tubi senza saldatura, sempre da Russia e Ucraina, è in corso un processo di revisione iniziato il 7 maggio e che si concluderà entro 15 mesi da quella data. Infine sono scaduti due dazi anti-sovvenzioni e anti-dumping contro le importazioni di fili di acciaio inox dall'India che erano in vigore da agosto 2012. L'analisi completa è consultabile nella sezione news di www.siderweb.com. Ed ora parliamo di produzione mondiale di acciaio. Nei primi dieci mesi dell'anno ha continuato a crescere l'output globale, lo ha fatto secondo gli ultimi dati di Federa Acciaio, anche quello nazionale. Sentiamo. Un altro mese con il segno più. A ottobre la produzione mondiale di acciaio è cresciuta del 5,8% su base annua, arrivando a 156,58 milioni di tonnellate. Secondo i dati della World Steel Association, inoltre, tra gennaio e ottobre l'output mondiale è stato di 1,50 miliardi di tonnellate, il 4,7% in più rispetto all'anno precedente. L'Europa però è controcorrente sia a ottobre che nei primi dieci mesi dell'anno. Delle nuove macro aree in cui l'Associazione Mondiale dei Produttori di Acciaio divide il mondo, infatti solo l'Unione Europea mostra un certo rallentamento dell'attività. I 28 paesi dell'Unione tra gennaio e ottobre hanno prodotto 140,61 milioni di tonnellate con un calo tendenziale dello 0,4%. Analizzando l'andamento dei primi dieci produttori mondiali di acciaio nei primi dieci mesi del 2018 si segnala la crescita di otto nazioni e il calo di due, con il segno più sempre la Cina, 782,45 milioni di tonnellate, seguita dall'India, 88,43 milioni e dagli Stati Uniti, 71,74 milioni di tonnellate. In quarta posizione arriva l'Italia. Tra gennaio e ottobre le acciaierie nazionali hanno sfornato 20,61 milioni di tonnellate di acciaio, in crescita del 2,7%. Nel solo mese di ottobre, secondo Federacciai, l'output ha toccato i 2,29 milioni di tonnellate di acciaio, in crescita tendenziale dell'1,1%. A settembre, ultimo dato disponibile, hanno rallentato ancora i prodotti piani, 952 mila tonnellate, meno 4,5%, sempre in accelerazione invece i lunghi, 1,13 milioni di tonnellate a più 1,1%. Questo era il nostro ultimo servizio, il telegiornale di Siderweb torna puntuale lunedì prossimo. Grazie e arrivederci.